Come saranno i robot del futuro? Cosa potranno fare per noi? Allora, noi appunto abbiamo questa visione del robot. A parte quello. Sì, abbiamo già visto alcune delle applicazioni, l'intervento in caso di disastro, la prostetica, quindi la riabilitazione. Un'altra applicazione è quella del robot assistente, abbiamo detto prima il robot badante. Ora, le prime cose che probabilmente verranno fuori saranno molto semplici, perché ancora, come vi dicevo, le tecnologie dell'intelligenza artificiale non esistono in maniera sufficiente da consentirci di realizzare una macchina che è autonoma, che fa tutto quello che ci possa servire in casa. Quindi stirare è difficile. È difficile, specialmente la camicia. Complicatissimo. Però ci sono delle altre cose che invece si possono immaginare. Quindi possibilità, ad esempio, per una persona che ha mobilità ridotta, aiutarlo a trovare le cose, a prenderle, a portargliele. Accompagnarle. Per una persona che su una carrozzina o su un letto cade una cosa per terra, andarla a raccogliere può essere molto complicato. In questo modo il robot potrebbe fare questo compito tutto sommato semplice per la persona. Su un comando vocale. Quindi una persona potrebbe semplicemente chiedere, mi porti il libro che leggevo ieri, che è rimasto in un'altra stanza, il robot va, lo prende, lo porta. Se uno si sente male, insomma, potrebbe aiutare. Potrebbe avere i sensori che monitorano in qualche modo la condizione di salute, dare l'allarme in caso che ci siano dei problemi. Potrebbe verificare, potrebbe ad esempio ricordare delle cose alla persona, se ha qualche malattia particolare, che è neurodegenerativa, di qualche tipo. È un'assistenza, insomma. Quindi potrebbe fare l'assistente. Questo vuol dire portare il robot in casa con un certo numero di applicazioni. Non è detto che sarà completamente umanoide all'inizio. Potrebbe essere una via di mezzo. Noi ci siamo fatti qualche pensata. Nella prossima slide, quello che faccio vedere è di fatto una di queste idee. Ah, personal shopper. Personal shopper. Chic. A noi donne piace, vero? Questo potrebbe essere uno scenario plausibile, semplicemente perché prima di arrivare nelle case, dove comprarsi il robot, sono tanti soldi, magari invece un bel centro commerciale di quelli belli potrebbe dire... Ti consiglia pure? Certo. Con il Bancomat incorporato potrebbe essere. Carta di lettore Bancomat incorporato. E magari passa anche la pubblicità, visto che ci siamo. Ti aiuta a scegliere quello che... Subito ha un filo che avete commerciale. Eh beh, è giusto. Bisogna ripagarselo il robot, no? Ecco.